Con questo tutorial parliamo del full adder. Il full adder è un circuito con cui è possibile seguire delle somme. Per realizzare un sommatore a n bit avrò bisogno di n mattoncini elementari, ognuno dei quali chiamerò proprio full adder a un bit. Vediamo come è fatta la tavola della verità e il circuito di un full adder. Dobbiamo ricordare che andiamo a sommare due bit, quindi bit 1 e bit 2 e ogni volta che sommiamo due bit avremo una somma e un riporto, come in questo caso 0 più 0 avrò somma 0 e riporto 0, oppure 1 più 1 avrò somma 0 e riporto 1. Poi ho anche il riporto in uscita, cioè sono quei valori che mi indicano un riporto da una somma precedente. Dal punto di vista del circuito il full adder si presenta in questa maniera, quindi avrò ingresso bit 1, ingresso bit 2, qui ho somma e riporto e qui un eventuale riporto in uscita. Adesso vediamo come poter utilizzare un full adder a un bit per eseguire una somma tra numeri binari. Apro il full adder realizzato con logism ed inizio a sommare bit a bit, cioè vado a fare la prima somma 1 più 1. Allora io so che se vado a fare 1 più 1 avrò somma 0 e riporto 1. Vediamo se il circuito lo conferma. Qui vado a mettere 1 e qui 1, quindi avrò somma 0 e riporto 1 e infatti qui ho scritto 0 e il riporto 1, cioè questo qui, me lo sono tenuto da parte. Poi vado a fare la somma del secondo bit, cioè 0 più 1 e allora devo andare a mettere qui bit 0 e qui 1. Però mi devo ricordare che ho un riporto in uscita e allora qui vado a mettere un 1 e allora avrò somma 0 e riporto 1 e allora vado a mettere qui 0 e riporto 1, lo metto qui. Adesso vado a sommare l'ultima coppia di bit, cioè 1 più 1 e do un riporto di 1 e allora vado a mettere qui 1 1, il riporto di 1 è già indicato e avrò somma 1 e riporto 1 e allora vado a scrivere 1 e 1. Effettivamente 1 1 0 0 è la somma di 1 0 1 con 1 1 1. E con questo termino questo tutorial su come funziona un full ladder. Grazie. 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 Grazie.